Devono far venire qua dei rossi che in 5 minuti gli farebbero da sicuro Ma cosa fai adesso? Un giro di campo? Un discorso alla ginocchia? No, senti, con un rigore per decidere l'8 a 7 Ringrazio sicuramente i miei amici e tutta la gente che è venuta Ma quel microfono ci fai un discorso a San Siro? Hai bisogno di scrivermi qualcosa Per il tempo Totti e Baroni stanno palleggiando a San Siro da parte a parte Poi Totti palleggia due volte e torna da Baroni, arriva anche Matri Ma non sarebbe bello se intrasse a fare l'8 a 7 Esatto Non ce la faccio, non ce la faccio proprio a... Ah, è un rigore da fermo Chiediamo all'arbitro Che bello cos'è